Vincenzo Zoccano, Presidente della Consulta Regionale Disabili, oggi abbiamo consegnato un premio, una tesi di laurea molto importante, soprattutto che apre un discorso anche sulla rivalutazione di quello che è la considerazione di un disabile, non più dal punto di vista solamente sanitario, ma dal punto di vista proprio di un rappresentante effettivo della società. E questo fosse il nuovo punto, il nuovo orizzonte? E questo è il nuovo orizzonte, ti ringrazio per la domanda, che mi dà modo proprio di complimentarmi nuovamente per questo lavoro scientifico evidentemente che la studentessa ha inteso fare, inquadrando la persona secondo il concetto, se vogliamo nuovo, innovativo, il cambio di paradigma che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ci chiede, ossia quello appunto di valutare la persona con disabilità per le sue abilità residue e per la sua individualità, quindi non necessariamente in una sola categoria che è quella del modello medico, ma in un modello più ampio che è quello biopsico-sociale.